buongiorno a tutti oggi in questa questa tre ore affronteremo html css come linguaggi e quindi iniziamo a parlare di web dopo aver visto l'introduzione a javascript come linguaggio di programmazione html css sono entrambi linguaggi sono come vi come ricorderete due dei tre linguaggi che si usano nel web che browser capiscono oltre a javascript e hanno scopi ben precisi e sono linguaggi di markup quindi non hanno concetti come cicli e non si scrive in algoritmi ma sono linguaggi che si usano per dare una struttura e uno stile alle pagine web e oggi nella prima ora nella prima parte della lezione e parleremo di html e delle basi di css e poi invece nella seconda e parleremo di quello che è un css più moderno e quindi qualche costrutto di css un pochino più diciamo avanzato rispetto a quello che vedremo nella prima parte e come solito se avete domande potete tranquillamente interrompermi e scrivere su slack nel canale live lecture come solito allora due parole su html poi lo vediamo da un punto di vista più pratico come come abbiamo sempre fatto in queste ultime settimane senza andare troppo in dettaglio nella storia ma html e html nasce nel 1991 al cern e grazie a questo signore che si chiama tims berners lee e che appunto l'inventore del web non solo di html e poi ha avuto una storia vedete quattro anni dopo è stato standardizzato da i etf come html 2 eccetera 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 fino ad arrivare nel 2014 ad essere creato html 5 html 5 che è uno standard live nel senso che viene potenziato aggiornato modificato in continuazione anno dopo l'anno quindi non è una versione che è nata nel 2014 ed è congelata al 2014 è uno standard live nel 2015 hanno fatto delle aggiunte nel 2020 hanno fatto delle aggiunte e così via e per di più è una famiglia di standard non è un singolo standard come invece capitava dal diciamo così dal 2000 in giù per tutti gli altri è una famiglia di standard che ha connessioni forti sia con quello che può capitare in css sia con quello che può fare all'interno del browser javascript quindi è un'ampia famiglia di possibilità voi se cercate html su internet tuttora troverete sia riferimenti a questa html 4.01 e sia ad html 5 e sono ovviamente abbastanza compatibili ma è proprio la filosofia tra html 4 e html 5 che è cambiata in html 4 la filosofia era abbiamo uno standard per fare pagine web ci concentriamo sul design e sullo stile di quelle pagine web e cerchiamo di farlo diciamo così in maniera più formale e strutturata possibile html 5 invece ha un altro approccio all'approccio di dire concentriamoci non tanto sulla singola pagina web sullo stile della singola pagina web sul design se vogliamo della singola pagina web che rimangono ovviamente ma vogliamo concentrarci di più su creare applicazioni web quindi non siti tradizionali in cui non solo siti tradizionali ma dare anche la possibilità di sfruttare tutto quello che il mondo nel 2014 e tuttora fornisce quindi per esempio la possibilità di usare una webcam dall'interno di un sito di usare un microfono all'interno di un sito di sfruttare il fatto che si sia su stiamo guardando un sito sul mobile su un telefonino su uno smartphone piuttosto che su un computer e quindi adattarsi a differenti risoluzioni a diverse a differenti sensori che sono disponibili su questi dispositivi l'accelerometro il giroscopio di uno smartphone che un computer desktop non ha quindi abbracciare una pletora di altri di più di più possibilità rispetto a quello che può essere inteso come un singolo sito una singola pagina su cui ci concentriamo per la parte estetica e inoltre dal 2014 html 5 non è solo uno standard w3c ma anche uno standard di questa watt vg che sta per web hypertext application technology group working group che appunto è focalizzato principalmente in collaborazione con la w3c a sviluppare a mantenere html 5 e le sue evoluzioni come standard quindi come vi dicevo un approccio differente prima diciamo intorno agli anni 2000 avevamo html 4 che il suo scopo era pagine web e design html 5 c'è questa espansione verso l'interazione più ricca con gli utenti con la persone che visitano il sito e il sito all'applicazione web e appunto questo shift verso le applicazioni web piuttosto che le singole pagine web presenti in un sito navigabili quindi qualcosa di più ricco rispetto a quello che capitava con html 4 e anche un pochino meno formale un pochino meno strutturato quindi si lascia molta più libertà a chi progetta un'applicazione web rispetto a quello che è anche molte più possibilità rispetto a quello che si poteva fare con html 4 questo giusto per dire se guardate su web su google cercate html e vi capita riferimento html 4 sappiate che è per buona parte compatibile ma ci sono ovviamente delle differenze delle cose aggiunte e notevolmente aggiunte su html 5 e questa immagine giusto per darvi un'idea di quello che vuol dire no che html 5 è una famiglia di standard ed è live è una famiglia di standard perché si c'è html 5 come linguaggio di markup che ha certi tag da usare da non usare eccetera ma ha tutta una serie di altre funzionalità per esempio audio video quindi come interagire con l'audio col video sia in tempo reale sia da registrato come avere per esempio web storage quindi dello storage all'interno del browser o la geolocalizzazione o la possibilità di accedere al file system di un computer all'interno dal browser quindi uscire dalla sandbox che il browser ha per poter accedere al file system dell'utente che sta navigando la testa appunto vedendo l'applicazione web non al file system del server per cui questo è già ovviamente possibile gli eventi touch perché perché abbiamo avuto una serie di dispositivi touch e quindi hanno aggiunto la possibilità di intercettare e gestire gli eventi touch all'interno di un'applicazione web e così via quindi tutto questo è live il collegamento con css 3 vedete qui che è ovviamente fa parte di questa famiglia di standard che entrano sotto il cappello di html 5 e per fare tutte queste cose audio video applicazioni web offline quindi se non avete rete il sito può continuare a funzionare l'applicazione web può continuare a funzionare web storage file system api eventi touch molto molto di questo utilizza javascript per abilitare la logica dietro queste operazioni per esempio per accendere la webcam per recuperare le informazioni della webcam manipolare le immagini che arrivano dalla webcam eccetera quindi tutto questo è una famiglia di standard una famiglia che si espande sempre più è una famiglia su cui alcune cose e questo è importante alcune cose sono veramente standard sono consolidate e tutti tutti i browser le implementano da anni e altre cose invece sono magari tentative sono bozze di standard alcune di questi vengono implementati con successo e diventano standard anche a tutti gli effetti altri di questi invece muoiono e smettono di essere bozze di standard e termine il loro processo e quindi browser man mano e che l'hanno anche implementati man mano smettono di di supportarli perché appunto non sono più standard non entrano più a far parte della famiglia di html 5 quindi è un mondo ampio mondo complesso anche che che evolve nel tempo ci sono ovviamente alcune cose standard di base che esistono che sono consolidate e altre appunto soprattutto queste aggiunte che vengono fatte che invece possono aumentare e diminuire nel tempo questo è un'immagine dell'anno scorso di due anni fa quindi già se avessimo un'immagine adesso magari ci sarebbero delle cose che sarebbero un pochino cambiate rispetto a questo ora dato che uno standard live che cambia come vi ho detto nel tempo ci sono alcune di queste funzionalità che sono supportate dai browser e alcune che invece non lo sono allora soprattutto per le funzionalità più avanzate in questo caso c'è un esempio sul drag and drop e anche alcune cose del di quello che parleremo sul css moderno nella seconda parte di questa lezione e ovviamente bisogna verificare prima di usarlo qual è il supporto dei browser e allora un sito è molto utile per verificare questa cosa si chiama keneuse che per ogni funzionalità di html 5 standard consolidata o meno quindi anche cose nuove o in bozza vi dice per ogni browser desktop o mobile qual è il livello di utilizzo di supporto all'interno del browser quindi per esempio il drag and drop che ovviamente viene fatto tramite anche javascript e ha un supporto vedete questo verde poi ci sono delle note che uno può leggere ma un supporto pieno in edge ha un supporto dalla versione 80 di realtà della versione 18 ha un supporto pieno in firefox dalla versione 3.5 ha un supporto pieno in chrome da sempre praticamente è un supporto pieno in safari da sempre mentre per esempio su safari su mobile a quantomeno quando è stata fatta questa foto non aveva assolutamente nessun tipo di supporto quindi se voi decidete in un'applicazione web di utilizzare il drag and drop sapete che sul desktop potete essere confidenti che sul desktop meno male funzioni ha qualche limitazione su internet explorer ma dovrebbe essere sempre meno utilizzato internet explorer in teoria mentre sul mobile sul mobile dipende sul mobile su mobile ios praticamente no e sul mobile android sì però dalla versione 80 di chrome dalla versione 80 del browser di android quindi non prima con delle note e quindi magari alcune cose funzionano alcune cose non funzionano su firefox per android per esempio assolutamente no quindi questo vi dà un'immagine un riferimento questo sito che neuse.com e per appunto capire se la tecnologia web magari sperimentale magari avanzata che state utilizzando che volete utilizzare nella vostra applicazione web è davvero supportata da tutti i browser e a che livello e in che modo oppure no questo ripeto ovviamente si applica questo che neuse potete cercare qualunque cosa su che neuse anche le cose più consolidate vi darà un disegno una tabella totalmente verde o quasi totalmente verde scuro quindi perché tutto sopportato ma su alcuni altri elementi ripeto quelli più avanzati quelli tipo drag and drop tipo l'accesso ad audio video tipo l'accesso tipo file system ea eventi touch eccetera ci possono essere delle differenze tra i browser da tenere in considerazione quando appunto si progetta un'applicazione web ripeto per le cose di basilari questo non non capita o meglio capita sulla maggior parte dei browser sono ovviamente tutte supportate più la cosa è nuova più la cosa sperimentale più è difficile che ci sia un pieno supporto tipicamente e chrome e firefox sono i primi due che implementano anche queste cose un pochino più nuove ed è anche questo il motivo per cui noi nel corso vi diciamo che potete usare o chrome o firefox proprio perché supportano gli standard anche in maniera molto sperimentale anche certe draft certe draft di standard sono già implementati parzialmente totalmente in chrome e o safari e o firefox quindi questo è per dirvi una famiglia di standard tantissime cose che potete fare rispetto al passato potreste quasi come dicevo nella lezione precedente è possibile fare queste progressi web app applicazioni web che assomigliano che si comportano come applicazioni native mobile però occhio che ci sono ovviamente quindi html 5 abilita tutte queste queste cose ma occhio che ci sono delle possibili differenze tra diverse versioni del browser ok parliamo di html adesso dopo questa introduzione html è un linguaggio testuale di markup unicode quindi un file di testo e che è composto da elementi e alcuni elementi sono obbligatori devono essere presenti nella pagina web e altri elementi invece sono ovviamente facoltativi dipendono da quello che volete inserire voi all'interno della pagina web html questo è molto importante ricordatelo soprattutto per per il futuro e è rappresentato da un albero nested quindi innestato uno dentro l'altro di elementi quindi c'è un elemento che contiene un altro elemento che contiene un altro elemento che contiene un altro elemento o che contiene altri cinque elementi insomma che conti elementi che contengono altri elementi e ogni elemento ha certe caratteristiche e ogni elemento significa come un tag che ha un apertura per esempio title tag che rappresenta il titolo della pagina e ha un tag di chiusura che è tipicamente lo stesso con uno slash davanti gli elementi poi hanno un contenuto quello che si chiama inner text che appunto è il testo in questo caso sample page che è contenuto tra i due elementi un elemento può anche avere come in questo caso un attributo href è un attributo del tag a e un attributo è sempre scritto in questo modo una parola chiave diciamo uguale un qualcosa tra virgolette come vi dicevo ci sono alcuni elementi che sono obbligatori ogni file html 5 deve iniziare con questa riga doctype html dopodiché c'è un elemento di root che è html che contiene l'intero file html html può avere alcune proprietà per esempio il linguaggio tipicamente il linguaggio della pagina che del resto del contenuto che presenta all'interno dopodiché ci sono due elementi obbligatori perché altrimenti o non funziona o non si vede niente uno si chiama head che rappresenta gli elementi di testa della pagina quali sono gli elementi di testa il titolo dei metadati chi è l'autore qual è la descrizione il caricare file javascript il caricare file css all'interno della pagina eccetera e poi c'è come secondo elemento obbligatorio il corpo quindi quello che davvero vedete a schermo notate che quello che c'è in head è invisibile non si vede quasi niente se non il titolo ma non si vede e non si vedono nella pagina mentre il body rappresenta quello che invece è presente all'interno della pagina come vi dicevo html ha una struttura ad albero quindi ogni elemento è innestato dentro l'altro e quindi il browser cosa fa quando prevede un file html fa effettivamente un parsing del file e costruisce un albero con i vari attributi le varie proprietà e dove si vede che ogni elemento è innestato dentro un altro quindi dentro l'elemento html ci sono sia head che body allo stesso livello dentro head ci sarà questo text poi ci sarà un titolo questo testo vuoto poi ci sarà un altro tag che è titolo che avrà come inner text questo sample page poi stessa cosa per body ci sarà un h1 che è sample page poi ci sarà un p che è qui che è allo stesso livello di h1 dentro p ci sono altri elementi eccetera 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 gli elementi in html html in realtà serve per definire la struttura di una pagina web il significato di una pagina web non come la pagina web appare quindi in html quello che noi diciamo è qui a un certo punto ci sarà un qualcosa che è un intestazione e un titolo qui a un certo punto ci sarà un qualcosa che è un link qui a un certo punto ci sarà qualcosa che è un paragrafo di testo non diciamo in html come questo link questo paragrafo di testo questa intestazione deve apparire non diciamo se l'intestazione deve essere 20 punti 50 punti con un font times new roman con il font arial non diciamo come appare diciamo quello è un'intestazione di pagina poi non è compito di html definire come questa intestazione appaia graficamente sarà grossa sarà piccola sarà blu sarà nera sarà rossa sarà un font sarà un altro font sarà centrato non sarà centrato non è compito di html quello è compito di css quindi html dà la struttura logica diciamo così di significato della pagina mentre poi css ci permette di strutturare graficamente layout i colori l'aspetto esteriore diciamo così della pagina proprio per definizione html il codice html non deve assolutamente concentrarsi su problemi aspetti di presentazione del contenuto ma solo come il contenuto qual è il significato del contenuto ripeto questo è un titolo questo è un paragrafo di testo questo è un immagine questo è un link eccetera ogni elemento html inoltre ha un valore di display un valore di visualizzazione di default che sono due quelli standard quelli di default che possono essere possibili o block oppure in line qual è la differenza alcuni elementi hanno come display block che vuol dire che sono elementi che potenzialmente occupano l'intero spazio sono elementi che sicuramente una volta inseriti iniziano una nuova riga quindi ogni elemento block occuperà uno spazio più largo possibile di default e quando si aggiunge un secondo elemento block sarà messo sotto quindi in una nuova riga rispetto al primo se aggiungiamo un terzo elemento sarà messo sotto rispetto al secondo e così via altri elementi hanno invece come default questo in line che vuol dire che non occupano l'intero spazio e non vengono messi uno sotto l'altro come blocchi concatenati uno sopra l'altro immaginate dei lego block in line invece vuol dire che gli elementi vengono messi sulla stessa riga potenzialmente quindi uno a fianco all'altro quindi il primo elemento che avrà una visualizzazione in line sarà messo diciamo sulla sinistra e poi quando voi inserite un secondo elemento che ha una visualizzazione in line non verrà messo sotto il primo verrà messo a fianco del primo quindi non iniziano una nuova riga ma stanno sulla stessa e occupano solo lo spazio necessario quindi se lo spazio necessario è 20 pixel occuperà solo esclusivamente 20 pixel ogni singolo elemento i blocchi vanno ovviamente dall'alto al basso ogni volta che aggiungete un blocco un elemento con display block si andrà sempre più in basso e un elemento con display in line invece si muoveranno da sinistra a destra e quando si arriva in fondo alla riga ovviamente vanno a capo e prima di andare avanti proviamo a concretizzare questo che abbiamo detto io ho creato, non ho creato niente ho aperto Visual Studio Code e a fianco abbiamo il browser ho creato una cartella vuota che adesso vado ad aprire come al solito e qui dentro andiamo a creare un file un file html chiamamolo index.html chiamamolo index.html perché magari ne faremo più di uno vedete? Devo aumentare un po' lo zoom così ok quindi creiamo una pagina html elemento obbligatorio abbiamo detto iniziare con doctype html e poi abbiamo l'elemento di root che abbiamo detto essere html che deve esserci vedete Visual Studio Code ecco ogni elemento l'abbiamo visto velocemente ma ogni elemento ha un suo elemento di apertura e deve avere un suo elemento un suo elemento di chiusura quindi questo è ovvio quindi all'interno della root html abbiamo detto che abbiamo due elementi obbligatori uno che è head e l'altro che è il body che abbiamo detto rappresenta il body e quello che apparirà nella pagina l'head invece sono altre informazioni che non appaiono nella pagina quindi non appaiono nello spazio del browser html ha tipicamente un attributo linguaggio che definisce qual è la lingua dell'intero documento quindi n e n per inglese noi possiamo mettere i t perché stiamo facendo in italiano riprendiamo l'esempio che c'era nelle slide per partire head ha un titolo mettiamo l'elemento title che potrebbe essere usiamo l'esempio degli esami che abbiamo fatto già vari esercizi sugli esami continuiamo con quello stile quindi facciamo un file una pagina che rappresenta i miei esami quindi l'elemento esame ora e poi qui nel body ci scriviamo qualcosa proviamo a scrivere qualcosa nel testo oppure i miei esami vedete testo libero all'interno del tag body e cosa comporta inserire il linguaggio inserire il linguaggio indica al browser e ad eventuali plugin del browser o per esempio per i ciechi se usano degli screen reader quindi strumenti per leggere la pagina web senza ovviamente poterla vedere perché sono ciechi il sapere che quello è in un determinato linguaggio e quindi comportarsi adattarsi in una maniera o nell'altra cioè tutte le informazioni che mettiamo qui sono informazioni semantiche che servono per dire cosa dovrebbe essere cosa la pagina rappresenta tutto quello che mettiamo qui sia il linguaggio sia qualcosa che si vuole dentro body poi visivamente lo vediamo noi però ovviamente questo è per aiutare il browser per aiutare altri software per aiutare altre persone a meglio comprendere la pagina a dare un significato semantico a quello che che appare ora io salvo questo e lo trascino qui su Chrome prima ha funzionato vediamo se è ok ora fatemi aumentare anche lo zoom da Chrome ora vedete che ovviamente vediamo due cose prima che la URL non è HTTP qualcosa ma è file che è un che si può scrivere ecco qua Chrome lo nasconde ma è proprio invece di HTTP due punti barra barra ha file due punti tripla barra che appunto è un formato valido di URL che però è più limitato nelle possibilità nelle cose che può fare rispetto a HTTP perché non è sul web questo file questo file ho fatto doppio clic come fare a doppio clic a un file HTML che avete sul computer va benissimo per ora appena avremo un appena avremo JavaScript avremo un server che potrà ospitare queste cose quindi lo potremo spostare ma per scrivere HTML CSS diciamo base tradizionale senza drag and drop senza webcam e quant'altro è più che sufficiente e funziona benissimo però occhio che al momento stiamo lavorando non su internet non su web questa pagina non è accessibile a nessuno ma è un documento che ho sul mio computer e che ho avuto sul vostro ecco vedete allora che body abbiamo scritto i miei esami ed è un testo buttato lì e il titolo è andato a finire sul sul titolo del tab all'interno del browser questo esame qui è esattamente questo titolo che abbiamo messo qui ok fatemi solo vedere se c'è qualcosa di particolare che posso dire nell'esempio e non sulle slide ok possiamo andare sull'esempio e più o meno ripetere queste cose qua ok questo magari poi torniamo qui ok se volessimo scrivere un commento come da richiesta potremmo scrivere per esempio mettiamo qui un commento minore punto esclamativo meno meno e poi si chiude con l'altro meno meno e questo è un commento in html quindi un qualcosa che il browser interpreta come e commento e potremmo scrivere metadati richiesti perché titolo tipicamente non è obbligatorio però senza titolo non avreste un titolo nel browser non vedreste un nome nel tab del browser o sulla finestra del browser questo si può usare in qualunque posizione all'interno del file html dove ripeto vedete tutto e dentro questo tag html e poi Visual Studio Code lo visualizza abbastanza bene ogni elemento è poi racchiuso negli altri quindi posso chiudere head e title non posso chiuderlo perché c'è solo un testo ma avesse altri elementi più composti Visual Studio Code me lo farebbe chiudere allora proviamo a costruire questo body così vediamo anche un po' di elementi html da poter utilizzare potremmo iniziare a commettere una frase del tipo non lo so potremmo immaginare ad avere una pagina che ha una frase che spiega cosa c'è all'interno della pagina e poi la tabella con gli esami quindi data nome dell'esame voto crediti insomma queste informazioni tipiche di un esame quindi iniziamo a mettere un testo per mettere un testo potremmo scrivere così direttamente ma di nuovo a livello di significato se noi scriviamo come abbiamo scritto i miei esami non stiamo dando nessun significato a quel pezzo stiamo dicendo sì questo è un testo all'interno di body ma non stiamo dicendo qual è il significato è un paragrafo è un titolo che cos'è e allora potremmo innanzitutto magari mettere un titolo perché no allora in html i titoli di sezione o di pagina si rappresentano come h e un numero dove h sta per header e appunto uno sta per primo livello secondo livello terzo livello dove l'idea è che l'header di primo livello venga prima dell'header di quinto livello quindi h1 venga prima di h5 e h1 sia quello più prominente sia in certo senso più grande ci si aspetta che sia più visibile più grande rispetto ad h5 o h3 o h4 che invece saranno header sotto sezioni fosse un libro voi avreste h1 che è il titolo del capitolo e h2 che è magari il titolo del sotto capitolo h3 che è il titolo del sotto sotto capitolo e così via html definisce 6 nella pratica non si usano mai tutti a 6 però i primi 3 o 4 spesso si usano quindi rappresentiamo un titolo che potrebbe essere chiamiamo i miei esami i miei esami e poi potremmo scrivere una frase e a questo punto una frase se vogliamo dargli un significato semantico potrebbe essere dentro un paragrafo riprendendo quello che capita nei libri o negli articoli scritti abbiamo un'intestazione poi abbiamo dei paragrafi e allora un paragrafo in html si definisce col tag p di paragrafo e un paragrafo accetta del testo per esempio la tabella seguente che adesso andiamo a creare riassume gli esami che ho sostenuto al Politecnico di Torino punto un paragrafo scriviamo del testo ora se noi volessimo che Politecnico di Torino fosse anche un link che cliccando andiamo sul sito del Politecnico possiamo farlo un link si rappresenta col tag a quindi a aperto diciamo aperto a e lo chiudiamo dopo Politecnico di Torino a sta per ancora perché questo può essere un link che porta sia a un'altra pagina web o un link relativo all'interna pagina quindi mettere un ancora rispetto a quello che c'è nel resto della pagina a un elemento obbligatorio e un attributo obbligatorio l'abbiamo visto nelle slide e uno fortemente consigliato per motivi di accessibilità come vi dicevo prima per esempio per i screen reader quello obbligatorio è href rappresenta la url a cui quel link dovrà portare nel nostro caso sarà www.polito.it quello non obbligatorio ma fortemente consigliato è title che rappresenta il titolo a cui può essere collegato questo link quindi title per esempio potrebbe essere il sito il buy al sito del Politecnico di nuovo tutte informazioni che aggiungono significato alla nostra pagina web se noi salviamo e facciamo refresh vedete adesso lo vedete molto grosso ma perché c'è lo zoom al 200% vedete che abbiamo un header di primo livello abbiamo un paragrafo con un link che se noi clicchiamo se mettiamo il mouse sopra ci compare il sito del Politecnico se noi lo clicchiamo effettivamente andiamo al sito del Politecnico dentro in HTML potete anche se volete separare lo spazio da capo non c'è problema è solo per voi se volete mantenerlo più visibile potete anche metterli a capo non c'è problema ora io vi ho detto che questo è tutta semantica però voi vedete che il browser per esempio su H1 lo mette in grassetto un pochino più grosso rispetto al testo questo perché? perché il browser di default ha un suo foglio di stile ha un suo CSS quindi applica un foglio di stile di default che varia da browser a browser quindi anche senza mettere nessuno stile il browser applica il minimo per rappresentare diciamo così graficamente il concetto semantico degli elementi di alcuni elementi da maggior parte degli elementi quindi gli header per esempio vengono rappresentati come più grossi l'H1 è più grosso se noi lo facciamo diventare H2 che non si dovrebbe perché H2 dovrebbe esistere solo se c'è un H1 e aggiorniamo dovreste vedere che questo diventa un po' più piccolo vedete è diventato più piccolo questo è di nuovo lo stile di default del browser ma ovviamente con CSS lo faremo si può si deve tipicamente si sovascrive la maggior parte dello stile di default per personalizzare l'aspetto e se no tutti i siti sarebbero bianchi e neri con tutti gli elementi uno sotto l'altro quindi ripristino H1 e con visualizzazioni levemente diverse da browser a browser ripristino H1 e faccio il refresh ora uno strumento utile è fare ispezione elemento che potete fare schiacciando col tasto destro su un qualunque punto della pagina ispezione elemento vi crea questa finestra per esempio questa è quella di di Chrome fatemela mettere sotto e alzare un po' piuttosto non può piuttosto non posso zoomare molto che rappresenta vedete il contenuto della pagina web esattamente questa qua questo funziona su tutte le pagine web anche quelle già esistenti e potete esplorare quello che avete scritto esattamente come avete scritto quello che è presente nella pagina web compreso il commento e se c'è dello stile vi fa anche vedere qual è lo stile applicato per esempio se andate su body vi dice che lo stile è display block perché? perché body è un elemento di tipo di default display block quindi va a capo e vi fa anche vedere lo spazio che ogni elemento occupa quindi body ovviamente occupa tutto e viene anche evidenziato h1 è un altro elemento di tipo display block lo vedete di default ha questo stile che è uno stile di nuovo quello impostato dal browser è però un elemento di tipo display block p è un altro elemento di tipo display block di default quindi se noi adesso scriviamo un altro elemento p qui come ogni paragrafo un altro paragrafo e aggiorniamo vedete che lui va a capo perché è un elemento di tipo display block quindi uno sotto l'altro di default e così via ora abbiamo visto gli header abbiamo visto i paragrafi abbiamo visto i link e possiamo aggiungere la tabella allora la tabella è abbastanza lunga da scrivere in html ma ha un elemento che si chiama table che si apre si chiude come tutti e dentro la tabella bisogna specificare separatamente le righe e le colonne in più ci sono due proprietà anche all'interno della tabella c'è l'head della tabella e c'è il body della tabella a differenza dell'html del file html l'head però è l'intestazione vera e propria della tabella una tabella tipicamente ha la prima riga magari in grassetto perché sono i titoletti di quello che è contenuto nelle colonne della tabella allora questi attributi sono t-head vedete è quasi sempre in realtà così sono quasi sempre attributi elementi che ricordano la parola che che devono che devono richiamare quindi t-head è la led della tabella ladder della tabella intersezione della tabella e t-body sarà il corpo della tabella poi t-head e t-body funzionano allo stesso modo all'interno bisogna definire delle righe e poi le celle di ogni tabella quindi la riga ha un elemento che si chiama tr table row e all'interno della riga potete definire le celle che sono quante colonne avete e le celle si definiscono con un attributo che si chiama td che sta per table data scusate nel led si definiscono come th non esiste il tc table cell ma esiste di due tipi il th che è appunto per quando si vuole mettere un'intestazione quindi delle celle di intestazione della tabella e si usa tipicamente in t-head e invece in t-body si fa una riga sempre con tr però poi si usa td per rappresentare ogni cella della tabella quindi noi per esempio nel leder potremmo mettere data poi facciamo copia e incolla di th e mettiamo esame poi crediti e poi voto e poi facciamoci anche un azioni immaginiamo che magari deve avere un bottone per cancellare l'esame per modificarlo per aggiungere un nuovo esame eccetera nel t-body a quel punto andremo a scrivere data il primo febbraio del 2021 poi copiamo questo td nello stesso ordine quindi il primo sarà la data il secondo sarà l'esame applicazioni web vabbè in realtà no perché non l'avete ancora dato facciamo architetture dei sistemi di elaborazione se si chiama così e poi cosa abbiamo crediti cosa sarà sarà 10 crediti non importa e voto facciamo finta 28 e azioni che andiamo a riempire dopo mettiamoci per ora una x per ricordarci che quella potrebbe essere qualcosa che vogliamo cancellare ho sbagliato voglio modificarlo voglio cancellarlo e questo è una riga quindi salviamo e vediamo il risultato vedete che di nuovo è una tabella non ha l'aspetto di una tabella ma in realtà se andiamo a aggiungere un elemento sarà incolonnato sotto e i vari td th all'interno di questa thead sono un grassetto sempre grazie allo stile di default che il browser applica e come azione abbiamo questa x ora invece della x noi magari vorremmo metterci un bottone qualcosa che possiamo cliccare allora un altro elemento inline stavolta anche questi in realtà vedete table e display table perché è particolare e table ha il suo display però table cell è quasi di tipo inline perché va ovviamente avanti cella per cella non è che va a capo ogni volta potremmo qui dicevo aggiungere visto che noi vorremmo un bottone potremmo aggiungere o un link quindi href eccetera oppure potremmo se vogliamo un bottone che assomiglia a un bottone e che abbia un significato semantico di un bottone potremmo aggiungere il tag button che mettiamo dentro poi ci mettiamo dentro una x quindi come abbiamo fatto prima dentro table meso thead meso tr dentro td mettiamo il tag button che ha un suo testo e significato e se noi aggiorniamo di nuovo vedete che adesso questo assomiglia a un bottone sempre con lo stile di default che in questo caso a chrome è un bottone che possiamo cliccare poi non fa niente se lo clicchiamo perché è solo estetico è solo un bottone da un punto di vista semantico di significato e anche di qui visibile ma ovviamente non ha nessuna azione associata ora fatemi copiare tutto questo e aggiungiamo un altro paio di righe alla tabella in maniera identica e cambiamo qualche data per esempio qui possiamo mettere i 6 qui possiamo mettere data science e tecnologie per le basi dati per le basi dati e cambiamo il numero di crediti cambiamo il voto e lasciamo il bottone e poi facciamo la stessa cosa facciamo il 15 febbraio sempre del 2021 tecnologie e servizi di rete giusto per scrivere qualcosa e poi potrebbe anche essere Pippo, Pluto e Paperino 6 e facciamo finta che qui avete preso 30 node ok quindi abbiamo la nostra tabella che vedete è una tabella è tutta incolonnato eccetera eccetera ora questo è stiamo scrivendo un file html con degli elementi html ha una serie di elementi predefiniti tutti quelli che potete immaginare e probabilmente qualcuno in più che sono anche riporti nelle slide ma ovviamente li si scopre man mano che li si usa ma appunto come vedete sono molto molto semplici sono tutti strutturati nello stesso modo qualcuno ha degli attributi come href obbligatori altri no come tutti questi che abbiamo messo però ecco il concetto è quello è così se utilizziamo un file html si struttura così aggiungendo pezzi in questo albero in questo uno dentro l'altro dentro l'altro ecco html5 tutto questo sarebbe valido tranne il doc type anche per html4 html5 che aggiunge ancora più significato semantico alle pagine aggiunge anche dei concetti di partizionamento della pagina cioè dentro il body è possibile dire ok questo ha un significato particolare questa parte questa porzione ha un significato particolare per esempio questa parte questa porzione è l'intestazione della pagina oppure è la parte principale della pagina oppure rappresenta un articolo tipo un articolo di giornale o una pagina html o la pagina html della stampa e dove c'è l'articolo posso dire quello tutto quel testo con le immagini con i link eccetera è in realtà un articolo vero e proprio è un articolo intero autocontenuto quindi aggiungiamo un significato semantico alla pagina diciamo in quella pagina quella porzione è l'articolo vero e proprio poi quella a fianco è magari la sidebar quello sopra è l'header quello sotto è il footer di nuovo esteticamente non cambia molto ma stiamo raggruppando elementi da un punto di vista semantico di significato quindi proviamo a fare la stessa cosa per esempio il nostro i miei esami potrebbe essere l'intestazione no? d'altra parte questa è l'intestazione e quindi potremmo dire che quell'elemento è dentro l'header vedete Visual Studio Code ve lo suggerisce l'header rappresenta il contenuto introduttivo il più vicino possibile al root element o comunque al contenuto di sezione un header tipicamente contiene un gruppo di aiuti introduttivi o di navigazione per esempio la navigazione tra lo sito potrebbe essere un header quindi facciamo un header e dentro l'header andiamo a metterci h1 come abbiamo fatto finora e vedete se noi aggiorniamo non cambia assolutamente niente esteticamente perché abbiamo aggiunto un significato semantico alla pagina non un significato estetico poi se vogliamo possiamo dire che l'header ha delle sue proprietà però in questo momento non ne ha o non è niente di visibile e possiamo dire la stessa cosa che questo è il main è il corpo principale della pagina quindi andiamo a racchiudere tutto questo tutto tutto fino alla fine della tabella in questo main e poi andiamo anche a indentarlo correttamente non è obbligatorio ma aiuta a leggere ok quindi indentiamo tutto un pochino in più e infine potremmo dire che aggiungiamo un footer abbiamo aggiunto le testazioni e aggiungiamo anche un piedi pagina e nel footer scriviamo un altro paragrafo per esempio in cui mettiamo 2021 applicazioni il copyright applicazioni web 1 mz ecco il linguaggio quello che abbiamo scritto qui langit oltre a quello che vi ho detto serve anche per informare il browser che ci potrebbero essere dei caratteri speciali all'interno della pagina per esempio le lettere accentate che in inglese un browser si può aspettare di non trovare mentre in italiano in francese in spagnolo ovviamente sì e ognuno con le sue caratteristiche inoltre ci sono alcuni caratteri tra cui le lettere accentate che possiamo richiamare direttamente da html per esempio innanzitutto vediamo il risultato di questo vedete che ho aggiunto un footer che di nuovo esteticamente non ha non ha alcun effetto e semplicemente è un di tipo block quindi viene messo sotto la tabella potremmo aggiungere il simbolo del copyright quindi la c col tondino che in html si scrive con e commerciale copy punte virgola e questo è il formato per inserire tutti i caratteri speciali dentro html se noi aggiorniamo vedete che è comparso questo simbolo cosa vuol dire tutti i caratteri speciali vuol dire che se noi per esempio qui mettiamo un altro paragrafo non lo so questo è un paragrafo ecco noi per essere sicuri che questa è accentata se noi aggiorniamo vedete che l'hai accentata viene fatta in maniera corretta ma se noi vorremmo essere sicuri che l'hai accentata sia sempre fatta in maniera corretta indipendentemente dal browser indipendentemente dal linguaggio del browser del sistema operativo che hai visualizzato non dovremmo scrivere così ma dovremmo scrivere la sua versione diciamo così in codice esattamente come per copy che esattamente come per copy inizia con un è commerciale finisce con un punto e virgola e dice che cosa e come come diciamo parola chiave dice che cosa deve rappresentare quella quella è una e con un accento e vedete che qui ci suggerisce un viso studio code e un accento con un accento grave non con un accento acuto e quindi scriviamo e grave e se noi aggiorniamo vedete che qui ovviamente non cambia niente ma viene visualizzato in maniera corretta esiste anche questo per scrivere la e maiuscola sempre con l'accento quindi invece di e grave con la e minuscola e grave con la e maiuscola questi sono tutti i simboli per che appunto viso studio code vi suggerisce per esempio vedete ce ne sono anche altri e plus non so esattamente e plus cosa faccia aggiunge un più con sopra l'uguale quindi sia simboli con gli accenti sia simboli di altro tipo per e quindi eguaglianza è più uguale più e per appunto aggiungere questi caratteri particolari all'interno della pagina HTML quindi questa adesso fatemela cancellare che non c'entra niente ma ricordate che c'è questa possibilità e che le lettere accentate per esempio in italiano bisognerebbe aggiungerle in quel modo è grave di e appunto è verbo essere oppure è acuta per perché per esempio o così la i con l'accento grave in grave esattamente quando ho scritto è grave mentre aspetto la domanda che qualcuno sta scrivendo oltre a head main e footer un altro elemento che si usa altri due elementi semantici che si usano molto sono nav per rappresentare la navigazione di un sito per esempio qui dentro potrebbe esserci un nav con qualcosa dentro che adesso non saprei che cosa mettere ma per navigare nel sito per esempio i link alle varie pagine e per molti siti hanno una parte principale una barra laterale prima del main la barra laterale si chiama è un elemento di tipo aside che viene messo in generale laterale ovviamente in questo momento se noi qui scrivessimo qualcosa per esempio questa ecco è grave è la sidebar se noi scrivessimo qualcosa e aggiornassimo ovviamente questa questa è la sidebar non viene messa davvero a fianco viene messa sopra perché è un elemento di tipo block anche lei perché p in realtà è un elemento di tipo block e quindi ovviamente non 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 viene stilizzato non viene impostato come layout perché non è ripeto non è compito da HTML5 dare il layout ma è compito da HTML5 dare il senso il significato alla pagina ma se si aggiunge il set di caratteri UTF8 16 bisogna comunque usare grave gli altri allora in teoria no nel senso che i browser i browser oggigiorno sono anche abbastanza furbi da capire la codifica della pagina e anche se non si aggiunge per esempio adesso in Chrome non mi ricordo dove è però c'è da qualche parte la codifica vabbè e quindi per esempio UTF8 16 e questo è diciamo una cosa sicuramente che deriva dal passato di retrocompatibilità ma anche per aiutare la retrocompatibilità con magari versioni più vecchie del browser e che magari non sanno cos'è UTF8 o non riescono a capire cos'è UTF8 così siete sicuri di essere retrocompatibili al 100% ovviamente come vedete Chrome nel 2021 è capace a prendere una accentata normale e capire che è UTF8 UTF16 e quindi visualizzarle in maniera corretta però non dipende da diversi fattori no aside ha senso che sia fuori come in questo caso è deve essere nel body attraverso non altrimenti non si visualizzerebbe ma ha senso che sia fuori perché aside ha un concetto diverso può anche essere dentro ma nel nostro caso può avere fatemelo dire così nel nostro caso può avere senso che sia fuori perché noi vogliamo dire ok la pagina web è composta da quattro elementi nel nostro caso da un'intestazione da un piedi pagina in fondo da una barra laterale aside e da un corpo principale della pagina che contiene le informazioni mentre la barra laterale sarà la side che magari rimane costante nelle varie pagine quindi questo è una struttura semantica della pagina di significato noi potremmo anche dire perché no la nostra pagina ha un significato diverso ha una rappresentazione di significato diverso abbiamo l'header abbiamo il footer abbiamo un main enorme in mezzo che è il contenuto principale all'interno del main abbiamo una side e un article per esempio dipende dal significato che vogliamo dare alla pagina in questo caso non avendo un article perché alla fine è una tabella non avendo una section di alcun tipo particolare è anche comune utilizzare questo però appunto è più per dare il significato semantico che lo sviluppatore vuole dare alla pagina sì esatto è come una div standardizzata nel senso che tutti questi main, aside, aider eccetera sono tutti div semantici diciamo così che hanno un significato semantico adesso per chi non sa cos'è il div ci arriviamo fra poco però il div è un contenitore esattamente come aider come aside come main e come footer ma a cui non è appiccicato nessun significato semantico è un contenitore opaco serve per contenere dei tag insieme perché sì per motivi di stile per motivi per motivi di stile tipicamente applicare un qualcosa a tutto quello che è contenuto in un certo gruppo serve per raggruppare cose questi sono tag elementi per contenere altri elementi non solo per motivi di stile ma anche per dargli un significato semantico HTML5 è tutto sul diamo significato al contenuto ai tag che mettiamo quindi quando possibile in HTML5 è bene utilizzare i tag diciamo così semanticizzati quelli che nella chat chiamate una div standardizzata sì elementi che hanno un significato semantico appiccicato adesso quindi non opachi come il div tutto ok fin qui? ok allora riprendiamo solo velocemente le cose che magari non abbiamo detto nelle slide come vi dicevo l'abbiamo visto ci sono dei contenuti che permettono di dividere quindi l'heading l'abbiamo visto il sectioning eccetera il phrasing sono tutte le cose che capitano a livello di tipo il paragrafo e quindi cose che ci permettono di mettere insieme di rappresentare di nuovo semanticamente di categorizzare diversi tag ma poi i tag sono da utilizzare tranquillamente questi sono i contenuti di section abbiamo già visto side vi ho citato nav section è un altro è un altro contenuto semantico in cui si dice questa è una sezione immaginate tipo in un libro questa è una sezione di un libro questa è una sezione di una pagina questa è una sezione di un articolo dipende di nuovo dal significato che volete dare header e footer l'abbiamo visto main non è citato ma l'abbiamo visto gli header li abbiamo citati e poi c'è anche hgroup che serve per raggruppare tanti header diversi nel caso uno voglia metterli insieme voglia tenerli insieme per qualche motivo stilistico o di nuovo di contenuto e qui c'è un po' di di guida all'utilizzo per esempio header è un gruppo quello che vi dice anche Visual Studio Code se volete è un gruppo di aiuti di introduttivo di navigazione nav è una sezione della pagina che linka ad altre pagine o a parte all'interno della pagina cioè una sezione con link di navigazione come dice il nome navigazione e così via questo è un tipico layout che capita più o meno il layout che abbiamo costruito noi c'è un header poi c'è un nav che spesso è dentro l'header infatti qui è dentro l'header poi c'è una side poi c'è un menu poi c'è un footer che è una struttura classica di una pagina web c'è un'intestazione in alto con la navigazione cliccate dei link a lato avete una barra una sidebar poi avete il corpo della pagina e avete un footer che dice qualcosa che ovviamente abbiamo visto questo non viene visualizzato in questo modo senza dargli dello stile ma viene messo tutto uno sotto l'altro perché sono tutti elementi di tipo display block su quello sulla sezione per raggruppare invece del contenuto abbiamo già visto alcuni di questi p per esempio è un paragrafo di testo main l'abbiamo anche usato contenuto dominante del documento ce ne sono altri per esempio ul è un elenco puntato quindi con con dei punti e ol è un elenco ordinato di nuovo il nome del tag ricorda ul unlisted unordered list quindi una lista non ordinata un elenco puntato con i punti neri classici ol è una lista ordinata ordered list quindi 1 2 3 4 5 e così via div è quell'elemento che citava in chat che è solo un contenitore non ha a differenza di altri elemento specifico un elemento un significato associato ma può essere utilizzato appunto per contenere altri tag insieme quando magari non ha non ha senso non si può utilizzare un uno di questi elementi di raggruppamento semantici che hanno attaccato un significato semantico sempre ripeto meglio sempre usare quelli che hanno un contenuto semantico però in alcuni casi può dire ok io devo mettere insieme questi due tag perché devo dargli uno stile particolare perché voglio che entrambi siano separati dal resto della pagina con dello spazio ecco e allora usano un div per tenerli insieme perché sono è solo un raggruppamento estetico non è un raggruppamento semantico per la pagina per esempio per invece il contenuto e abbiamo visto già em c'è anche un tag img per visualizzare immagine c'è l'equivalente del div mentre il div è di tipo block per gli elementi in linea come A per esempio che è un display in line abbiamo visto non va a capo rimane nel testo c'è anche span che serve per raggruppare elementi in line senza un significato semantico e poi abbiamo per esempio B per mettere qualcosa in grassetto anche strong si usa per mettere qualcosa in grassetto e di nuovo cambia il significato semantico B è dire questo va in grassetto punto va in bold strong per dire questo deve essere evidenziato nella pagina spesso questo essere evidenziato è metterlo in grassetto ma non è non sono concetti strettamente collegati uno può avere qualcosa in grassetto ma non averlo strong oppure avere qualcosa strong che oltre al grassetto ha anche il corsivo per esempio em e i sono la stessa cosa i per mettere qualcosa in corsivo italico em per metterlo in italico ma di nuovo con il significato di strong quindi un po' qualcosa di che ha un enfasi em sta per enfasi ma non necessariamente in corsivo magari in enfasi vuol dire più grande in corsivo più grande con altre proprietà non solo col corsivo e poi ce ne sono altre button l'abbiamo usato br serve per andare a capo e fare una nuova riga e così via la side del nav possono usarsi per piacimento cioè in base a come può piacere usare uno o l'altro o tutti e due oppure ai fini del progetto d'esame viene data una specifica di come deve essere la pagina a livello di presentazione aspetto e allora sono due domande diverse ai fini del progetto d'esame viene data una specifica ma che non riguarda come deve apparire la pagina quindi potete usare i tag html in quel caso in realtà generati da react che volete possono usarsi a proprio piacimento per esempio aside nav ma anche altri vanno usati di nuovo da un punto di vista semantico e di significato in base a quello che volete rappresentare quindi se voi nella pagina volete avere una sidebar usate aside potete usare div per metterlo nella sidebar ma è più corretto usare aside avete una parte di navigazione usate nav perché? perché il suo tag invece di usare un div che mette dentro roba a caso usate nav se potete ovviamente magari non potete perché il css che fate o che usate non vi permette di farlo però o non lo fa lui e quindi di conseguenza voi non lo fate però il senso è esistono è bene usare quelli semantici quando possibile però sta a voi quando progettate in un certo senso la pagina web cosa come deve apparire la pagina web di scegliere quale usare non ci sono risposte totalmente giuste o totalmente sbagliate quando si usano queste dipende dal significato che volete dare voi alla pagina sicuramente se voi avete una sidebar gli date come attributo come tag di contenimento button magari non è la scelta migliore ecco contate inoltre che da un punto di vista dell'aspetto e lo vedremo nella seconda parte noi useremo un framework css che quindi da uno stile di default e definisce già una serie di elementi di come appaiono una serie di elementi per esempio la navigazione e aggiunge anche una serie di elementi che magari in html non esiste quantomeno aggiunge la parte stilistica di quella serie di elementi e quindi poi per l'esame potete tranquillamente e lo faremo anche nel laboratorio lunedì usare questo framework che vi facciamo vedere e che vi facciamo usare per la parte estetica per la parte grafica perché non ci interessa davvero non è un corso di web design nel senso di andare a scegliere i colori giusti andare a scegliere ma quasi più se volete un corso per la progettare il front end e realizzarlo da un punto di vista implementativo oltre agli elementi di contenuto di phrasing come prima ci sono anche quelli interattivi nel senso che potete cliccarci abbiamo già visto A abbiamo anche visto Button c'è anche input per scrivere del testo select e texteria per select per selezionare più elementi e texteria un'area di input molto più grossa sono ovviamente elementi che vengono utilizzati per permettere all'utente di interagire quindi chi visita il sito di interagire il link l'abbiamo visto l'abbiamo visto anche Button come esempio table l'abbiamo già visto l'abbiamo già detto le tabelle possono anche avere una caption e quindi una tipo questo data about planets bla 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 e si possono nelle colonne si possono anche regruppare in call group nel caso in cui di nuovo si voglia dare poi un aspetto uniforme magari a delle colonne intere e non solo alle singole celle dopodiché ci sono due attributi che non abbiamo usato che sono applicabili a tutti gli elementi sono attributi generici uno si chiama classe e uno si chiama id qual è l'idea dietro questi sono ampiamente usate in CSS e in JavaScript per poi manipolare la pagina HTML o per dargli uno stile class rappresenta la classe o le classi che a cui questo elemento appartiene quindi possiamo dire che appunto per esempio in CSS vengono utilizzati per dare lo stile a una famiglia di elementi quindi tutti gli elementi che hanno classe uguale a non lo so BTN avranno l'aspetto di un bottone BTN può essere la classe che diamo noi il nome per un bottone e uno può avere anche molteplici classi separati da spazio quindi può avere classe 1 classe 2 classe 3 sono parole le vedremo in CSS in maniera simile abbiamo l'attributo id che rappresenta invece l'identificatore univoco all'interno della pagina di uno specifico elemento anche questo ampiamente utilizzato differenza principale class potete avere più elementi con la stessa classe prova all'interno di una pagina html dato che questo è un identificativo ci può essere solo un elemento con quell'id specifico quindi se avete un id prova di nuovo ci può essere solo un elemento con un id prova altrimenti il browser se voi andate a prendere questi id prende solo il primo che trova non prende gli altri se anche ne mettete più di uno il terzo elemento che può essere applicabile a tutti è style che dà lo stile CSS a un singolo elemento ma sappiate che esiste e sappiate che dimenticate che esiste perché è un pessimo modo di applicare lo stile CSS a un elemento lo stile CSS si applica importando un file usando classi usando id e non andando a settare a mano lo stile nel singolo elemento si può fare soprattutto per motivi magari di sviluppo può essere utile farlo ma è meglio non farlo quindi qui dentro le virgolette si scrive un pezzo di CSS che vogliamo applicare abbiamo già letto di div e span che sono questi elementi che servono per contenere altri elementi ma senza un significato semantico particolare e ovviamente si può costruire come vi ho detto la stessa pagina sia usando div sia usando gli elementi semantici e si possono anche mischiare come in questo esempio ma ovviamente usando elementi semantici ci dà anche un significato alla pagina che cosa vogliamo dire quindi per esempio questo è un footer e quindi lo possono usare un footer e questo era molto comune prima di HTML5 usare per esempio per identificare che questo è un footer metterci id uguale footer ma adesso abbiamo l'elemento e quindi usiamo direttamente l'elemento se vogliamo ovviamente come abbiamo visto il default rendering per tutti questi cosi è lo stesso di div cioè non c'è un rendering di default ma bisogna usare poi CSS per applicare uno stile e vabbè qui c'è un flowchart che aiuta a capire cosa è meglio usare come elementi semantici se vi serve un aiuto o avete un dubbio per esempio è un blocco di navigazione principale sì allora usare nav perché perché è navigazione e così via esiste poi anche degli strumenti per validare se l'HTML che avete scritto è valido è corretto avete scritto attributi che non esistono avete usato tag che non esistono avete usato tag in ordine sbagliato per esempio non si può usare un H3 prima di un H1 o un header al di fuori del body non viene visualizzato ma è anche sbagliato da un punto di vista del linguaggio ci sono dei validatori come questo su validator appunto w3.org che permettono dato un indirizzo o caricando un file tramite upload di appunto verificare se la pagina è compliant diciamo con lo standard HTML5 quindi se avete scritto tutto in maniera corretta da un punto di vista di HTML oppure no e anche quali sono gli errori quindi poi come correggerli domande su questa parte sì no tutto chiaro ok ok perfetto allora io inizierei giusto a dirvi due cose su CSS poi facciamo una pausa visto che è passata quasi un'ora e mezza e continuiamo dopo la pausa però giusto per darvi due informazioni di background visto che siamo ancora nelle cose facili e poi prima di vederlo magari nel dettaglio facciamo una pausa allora CSS abbiamo detto che l'obiettivo del CSS è quello di CSS sta per cascading stylesheet quindi fogli di stile a cascata a cascata vuol dire che si possono usare uno insieme all'altro e che uno può anche sovascrivere alcuni elementi dell'altro quindi se non possono usare più di uno non è necessario avere un solo foglio di stile noi adesso parliamo di CSS3 che è un approccio modulare anche lui è uno standard usato insieme ad HTML e come abbiamo visto come potete immaginare il CSS ci serve a dare uno stile a questa pagina che altrimenti è tutta una serie di elementi uno sotto l'altro CSS è composto soprattutto il CSS3 è composto da vari tipi di moduli per esempio c'è un layout a griglia ci sono dei selettori eccetera che sono anche loro si sono evoluti nel tempo e anche lui è un pochino uno standard live collegato fortemente ad HTML5 che quindi ogni tanto aggiunge qualcosa che ci può essere utile ma rimanendo sempre retrocompatibile con quello che succede ripeto CSS serve per darci lo stile l'aspetto il layout la pagina quindi prendere quella sidebar e metterla davvero a destra o a sinistra lo decidiamo con CSS se la sidebar a side deve stare a destra o a sinistra o dove deve stare e come deve apparire ogni cosa allora CSS è basato su regole è un file di testo con una serie di regole che viene importato nell'HTML e a cui si linka nell'HTML attraverso le classi e gli di principalmente è basata su regole dicevo la regola è composta da due parti principali un selettore e una dichiarazione il selettore è quale indica qual elemento HTML o quale parte di l'elemento di HTML o quali elementi HTML dipende da cosa scrivete nel selettore vogliamo applicare quella specifica regola quindi in questo caso dell'esempio vogliamo dire questa regola qui qualunque cosa faccia la vogliamo applicare a tutti i tag H1 che sono presenti nella pagina web a tutti quindi qualunque elemento H1 avrà questa proprietà da applicarsi quindi selettore ci dice a chi si applica una certa regola e la dichiarazione che può anche essere fatta su più righe può avere anche più elementi all'interno dice invece che cosa dobbiamo applicare a quel selettore e la dichiarazione come è fatta è sempre fatta da una coppia proprietà valore punte virgola proprietà valore punte virgola eccetera quante ne volete voi e appunto dichiara che cosa deve essere applicato in questo caso dice il colore vedete anche qui tutto molto tutto sommato intuitivo comunque è comprensibile da un punto di vista anche linguistico il colore deve essere blu la dimensione del font deve essere 12 pixel quindi applicando questa proprietà diciamo che tutti gli elementi h1 all'interno della pagina html a cui questo css viene agganciato sarà avrà come testo 12 pixel di grandezza e come colore blu non nero come era prima ma come colore blu tutto qui il css è una serie di queste righe o di questi blocchettini che hanno un selettore aperta parentesi graffa chiusa parentesi graffa una serie di dichiarazioni che sono da applicare a quel selettore dichiarazioni ce ne sono tipo più di 200 cose possibili da fare ovviamente il colore si applica a tutto quello che ha un testo un'immagine non potete applicare non potete a colore cioè potete farlo ma non avete un risultato ovviamente o anche un font size se avete un'immagine non ha senso cambiare la dimensione del font perché un'immagine non è carattere non è testo e la cosa se volete un pochino più difficile un po' più particolare non è tanto le proprietà che sono 200 se guardate su mdn quindi developer.mozilla.org come abbiamo visto fino all'altro giorno per javascript trovate tutte queste proprietà in tabelle con la sua descrizione eccetera la cosa magari un po' più particolare sono come scrivere selettori che ce ne sono alcuni semplici come questo o alcuni un pochino più complessi però la sintassi è sempre questa ci sono dei selettori anche più di uno separati la virgola come volete come avete bisogno di dare uno stile alla pagina e poi le dichiarazioni che sono sempre proprietà due punti valore punte virgola che non è obbligatorio ma è consigliato il punte virgola proprietà due punti valore punte virgola ovviamente valore valido un background color o un color chiederà un colore non chiederà cinque un margine chiederà un numero quanto è grosso il margine la dimensione del font chiederà un numero quanto è grosso il font questo è abbastanza intuitivo e Visa Studio Code nell'autocompletamento vi aiuta anche per esempio vi dà l'elenco dei colore a disposizione tra cui poter scegliere e anche di supporto in queste cose ecco ricordate quello che abbiamo detto su HTML che ha questa struttura nested ad albero ora noi l'abbiamo vista prima in un esempio molto semplice questo è un pochino più complesso a una tabella come quella che abbiamo fatto noi ecco in questa tabella vedete come diventa l'albero abbiamo HTML poi abbiamo body in questo caso poi abbiamo un div poi dentro il div abbiamo un altro div poi dentro questo secondo div abbiamo la tabella dentro la tabella abbiamo una, due, tre, quattro righe TR nella prima TR abbiamo due TH con le parole step e process nel secondo TR abbiamo un TD con scritto uno un altro TD con scritto figure out l'attributo M per mettere così in enfasi tipicamente in corsivo root element che sarà la parte in corsivo poi ci sarà un punto poi ci sarà l'altro TR e così via quindi questa struttura ad albero che mappa la pagina HTML perché questa struttura ad albero vi ho detto ricordate perché è importante perché è importante quando parleremo di JavaScript settimana prossima nel browser ovviamente ma è importante anche nel CSS perché il CSS di uno che si applica a uno degli elementi padri di quest'albero si propaga quasi sempre su tutti gli elementi che stanno sotto quindi se per esempio noi diciamo che body che ovviamente sappiamo essere un elemento che ne contiene tanti altri che contiene tutto quello che viene visualizzato deve avere per esempio non lo so tutto il testo dentro body deve avere il colore verde ovviamente tutto il testo dentro body avrà il colore verde non importa se è dentro una P se è dentro un H1 se è dentro un L se è dentro una tabella tutto il testo diventerà verde se però noi poi diciamo che H1 deve avere il colore blu ecco in quel caso H1 nonostante sia dentro body dato che la regola è più specifica perché dice non parlo di body ma parlo solo di H1 H1 diventa blu tutto il resto è umano verde ma H1 diventa blu per esempio qui c'è questo esempio quindi body ha come colore verde in questo caso tutto body non nel testo H1 ha come colore rosso dato che H1 è su queste due regole sono in conflitto perché H1 è dentro body ma dato che H1 è più specifico questa regola è più specifica di questa perché si applica solo a un sottinsieme degli elementi mentre body si applica a tutto vince H1 solo per il suo elemento questo è ripeto visibile graficamente in questo albero in cui tutto quello che è sotto body diventerebbe verde ma H1 è sotto body ma è più specifico alla sua regola che si applica solo ad H1 allora diventa rosso in questo caso dell'esempio quindi questo per dire occhio che gli elementi le proprietà molte proprietà HTML si ereditano lungo l'albero quindi se io avessi messo solo UL giallo UL e i suoi figli oppure P tutti i P sarebbero diventati verdi se avessi messo main verde quindi qui facciamo che facciamo finta che qui ci sia un main se avessi messo main che dentro avrà delle altre cose avrà cosa che aveva prima avrà una P per esempio avrà un table avrà quello che avrà e dicevamo che main blu non fatemi scrivere tutto ma il senso è come prima allora con questa istruzione senza questa istruzione sarebbe anche tutto main diventato verde ma con questa istruzione questo diventava blu questo diventava blu questo diventava blu quindi tutto quello che poi si ereditano ma dal punto di vista della specificità va bene la sintassi l'abbiamo vista c'è la proprietà c'è un due punti di ogni dichiarazione poi c'è il valore è spesso fermato da punte virgola anche se non obbligatorio come vi dicevo ci sono più di 200 proprietà tantissime che nessuno può sapere la memoria ma grazie al cielo c'è internet e quindi possiamo leggerle lì molti hanno un nome intuitivo che ci possiamo ricordare tipo non lo so per esempio background background cosa darà? darà delle proprietà al background allo sfondo background color cosa darà? darà il colore al background ci permetterà di impostare il colore al background di un certo elemento quindi allo sfondo di un certo elemento o di tutto se applicato al body e border dov'è border? per esempio border bottom color cosa farà mai? imposterà il colore del bordo inferiore di un elemento se l'elemento non ha un bordo di una grandezza diversa da zero ovviamente se no lo farà ma non avremo effetto estetico diciamo così vediamo un altro un pochino più giù ancora farò un esempio font vediamo dov'è font font family cosa farà font family? imposterà una proprietà che dice qual è la famiglia di font times new roman arial eccetera qual è il font specifico che voglio utilizzare per un certo elemento o una certa set di elementi identificato da un selettore specifico ovviamente se applico un font family ripeto a un'immagine non avremo un effetto perché in quel caso non è una proprietà valida per quel tipo di elemento a cui viene applicato perché non c'è un font da cambiare e così via quindi ce ne sono 200 c'è la documentazione che si può guardare che useremo ma per dire possono essere tante cose ma sono quasi tutte cose che potete immaginare o avere un'idea di come fare nessuno si ricorda tutte le 200 proprietà più le 200 proprietà che vengono anche aggiunti di tanto in tanto a memoria ma ce ne sono appunto molte se non tutte hanno un nome abbastanza esplicativo e di nuovo Visual Studio Code poi aiuta anche con l'autocompletamento quindi se volete cambiare il colore a qualcosa ma non vi ricordate la proprietà esatta iniziando a scrivere col vi compare una serie di opzioni che hanno dentro la parola colore quindi potete scegliere se usare color text color background color o quant'altro e queste sono le proprietà dal punto di vista del valore il valore può essere di vario tipo può essere un numero e può essere una stringa può essere delle percentuali il 50% il 25% una misura 30 pixel 40 pixel eccetera questo dipende dal tipo di proprietà specifica ovviamente in background color vorrete una stringa che rappresenta il colore in font size vorrete un numero che rappresenta la grandezza del font queste 200 proprietà poi sono divise in categorie soprattutto su vari siti per cui vi aiuta anche a capire dove andare a cercare le cose come le proprietà sul testo le proprietà per la tabella che ovviamente non saranno quelle sul testo le proprietà sul colore che si applicano invece a più cose non solo alla tabella non solo al testo e così via come vi dicevo nel valore potete mettere un numero una stringa questo valore che potete mettere tipicamente quando non è una stringa ha una unità che rappresenta la grandezza font size 20 pixel 12 pixel la grandezza in pixel ci sono due tipi di unità in due categorie diciamo di unità in css c'è quella assoluta tipo pixel sono 20 pixel non importa dove la visualizzo se lo visualizzo su uno schermo molto grosso molto piccolo eccetera sempre 20 pixel saranno oppure relativa che dipende da come viene visualizzata quello precedente l'elemento precedente magari un font che ha una dimensione relativa rispetto al suo padre quindi se il suo padre era 12 pixel questo è il 50% del padre per cui se io cambio la dimensione del padre per esempio del font caprica body tutte le dimensioni relative ovviamente cambiano di conseguenza non in maniera fissa ma relativa a qualcosa e ovviamente quella più comune fissa è i pixel e sono i pixel che vedete a schermo che ovviamente è fissa è comoda ad utilizzare non è tanto adatta se dovete soprattutto per certi elementi se dovete avere magari siti o applicazioni web che sono adatti per desktop dove avete magari un monitor da 15 pollici e una certa risoluzione o su uno smartphone che il monitor magari ha una risoluzione molto alta lo stesso ma è molto piccolo e quindi il pixel diventano magari testo molto molto piccolo oppure un oggetto di dimensione un elemento di dimensione molto piccolo quindi in quei casi è sempre preferibile usare quelle relative che ce ne sono in realtà molteplici queste in slide sono quelle più comune più comuni e sempre da preferire quelle relative rispetto a quelle assolute rispetto a quelle fisse e vabbè questa qui è preferibile a quella sopra quali sono queste proprietà relative una si chiama EM che adesso è un pochino stata come dire rimpiazzata da questo RM che però funziona più o meno allo stesso modo EM è un'unità relativa alla dimensione del font dell'elemento quindi se l'elemento ha un font di 12 pixel un EM vuol dire 12 pixel 2M vuol dire 24 pixel 3M vuol dire 36 pixel e così via dell'elemento corrente magari dell'elemento innestato ma dell'elemento corrente ed è relativa perché appunto dipende dalla dimensione del font se l'elemento non ha un font ovviamente è poco utile questa proprietà RM stessa cosa relativa alla dimensione del font ma non dell'elemento corrente ma dell'elemento root della pagina che tipicamente ha un font impostato o di default dal browser o da un framework CSS o da chi o da voi e questo funziona bene soprattutto dove c'è una relazione con the font e le altre tre proprietà queste due sono correlate ovviamente vw e vh sono proprietà relative unità relative alla grandezza l'ampiezza o all'altezza della vista della viewport quindi della dimensione della finestra del browser questo non è quindi relativo a un qualcosa che è presente all'interno della pagina tipo il font size ma è relativo a quanto grande il browser mostra la pagina quindi se voi avete un browser che mostra non so una pagina da 100 pixel e avete un vh al 50% vuol dire che quell'elemento sarà grosso il 50% della finestra del browser per l'ampiezza se la finestra diventa più piccolo l'elemento diventa più piccolo di conseguenza quindi sono collegati l'uno all'altro e infine c'è il percentuale che è quello una delle unità più storiche diciamo e anche più più vecchie diciamo del rem o del vh del dw che invece è la percentuale relativa all'elemento genitore all'elemento che lo contiene quindi questo elemento deve essere il 50% più piccolo deve essere il 50% dell'elemento precedente l'elemento precedente può essere la sua volta il 75% dell'elemento che viene dietro ancora e quindi il browser fa poi tutti questi conti per mantenere le proporzioni corrette tra i vari elementi ok io direi che qui possiamo fare un quarto d'ora di pausa ci rivediamo alle 10 e 20 e continuiamo con CSS